Squat ai bar leggero, il mio secondo squat di settimana e dopo di che passerò a fare uno stacco pesante e l'idea sarebbe di salire con delle singole pesanti sullo stacco da gara, diciamo così, però sempre con deadlift bar è il bilanciere che ho utilizzato nell'ultimo periodo quindi continuo a usare anche questo, anche in questa sessione il fatto è che avrei dovuto fare un test, diciamo interessante su delle singole pesanti qualche settimana fa ma immediatamente dopo, la settimana dopo aver fatto 280 con il fermo in partenza per chi ha già visto il video, sono stato ammalato non sono riuscito ad allenarmi e ho perso un'altra settimana e mezza di allenamenti causa influenza insomma, febbre e quant'altro non sono riuscito ad allenarmi e adesso mi trovo a dover fare stacco dopo qualche settimana e non so esattamente cosa ne uscirà e quanto riuscirò ad andare pesante potrebbe essere che rimango leggerissimo o che lo stop mi ha fatto bene magari mi ha dato un po' di forza in più quindi scopriremo questa cosa dopo esserci riscaldati e aver fatto lo squat pesano riscaldamento veloce adesso saliamo a 160 kg con 160 kg faccio 8 serie da una ripetizione con un riposo piuttosto breve e questo è uno schema che utilizzo faccio utilizzare molto spesso per aggiungere volume e aggiungere soprattutto ripetizioni singole nello squat esercitare il gesto esercitare l'uscita dal rack il controllo del bilanciere tutti i passaggi che vogliamo fare le prime ripetizioni sono sempre le più lente soprattutto quando sono così a freddo mi riscaldo velocemente perché magari il peso che devo fare non è così alto quindi faccio dei salti grandi poi mi trovo ancora un po' freddo nelle prime serie ci metto qualcosina a ingranare ma anche questo tipo di lavoro che tendo a fare senza l'attrezzatura addosso senza la cintura senza le ginocchiere mi protrae un po' di più quel tempo che mi serve per riscaldarmi bene prima di essere efficiente e veloce esplosivo nell'alzata la cintura Adesso che siamo già più caldi, siamo pronti a passare allo stacco sumo. Può essere sempre un'arma a doppio taglio, fare altri esercizi, altri movimenti prima dello stacco pesante. Il lato positivo è che sicuramente ci riscalda e non arriviamo così freddi a fare l'alzata. L'altro può essere l'aspetto negativo, che se non siamo attenti arriviamo troppo stanchi all'esercizio e perdiamo forza, perdiamo capacità di sollevare carichi importanti o di spingere veramente quello che vorremmo spingere durante quell'allenamento. Quindi ho dovuto un po' sperimentare con quello che è il livello soprattutto di squat, che è il movimento che generalmente faccio prima dello stacco, quanto effettivamente posso spingermi in là prima che diventi controproducente per lo stacco che faccio dopo. C'è da dire anche che lo stacco sumo è meglio arrivarci piuttosto caldi rispetto magari a qualcuno che fa stacco regular in cui il riscaldamento tende ad essere un po' più veloce e la richiesta di mobilità è minore, quindi può essere che siamo attivi già da subito. Oh che freddo che sono alle anche. 170 kg questo è il carico in cui di solito voglio cominciare a usare la cintura, voglio usare look grip, voglio proprio sentire l'alzata come poi sarà a carichi più pesanti, invece le serie prima le faccio più velocemente possibile insomma senza attrezzatura, senza grossi appunti sulla presa. Qui ancora presto però già comincio un po' a sentire le sensazioni del giorno diciamo, quanto sono in forma, quanto riesco ad accelerare il bilanciere o se ho magari dei fastidi che possono essere alla schiena, alla presa, alle mani, come sento il bilanciere insomma, quindi per adesso è andato piuttosto bene però non è mai detto a questi carichi ancora bassi può sempre far molto presto a cambiare la sensazione del giorno, magari a carichi leggeri ci sentiamo molto performanti, molto esplosivi e poi abbiamo un calo improvviso durante il ramping. 220, la prima serie in cui di solito comincio a usare la magnesite, prima no perché non voglio avere tutti i dischi da pulire e quant'altro, mano a mano che li carico, quindi poi mi trovo che alla fine devo sistemare meno cose, poi non serve neanche la magnesite sotto un certo carico, soprattutto anche d'inverno che si suda meno, la magnesite esclusivamente toglie l'umidità dalle nostre mani, quindi se non abbiamo sudore alla fine non è che serva così tanto per fare presa, non è una cosa miracolosa. direi di fare 2,50 per la prossima serie. Oggi mi sa che non ne abbiamo tanto, ho partito un po' troppo indietro, non ero bene in spinta, un po' sul tallone e non sono riuscito a dare così tanta forza con la gamba. Vediamo se riusciamo a salire un altro po'. 270 kg come prossimo salto. ho sentito salire anche abbastanza lentamente in realtà, però ho sentito un altro po' di nel complesso quasi meglio dei 250 di prima. Non so se fermarmi qui o fare un ulteriore salto. Allora, visto che abbiamo dischi da 15 kg qui, vediamo di andare direttamente a 300 kg e tentare vedere come va. fare di meno non avrebbe senso per oggi. Oggi non c'è proprio. ho sentito tutta la tensione crearsi a livello addominale, quasi da creare discomfort anche a livello degli adduttori. Quindi non riesco a gestire quella tensione che si crea, che dovrei riuscire a generare per stabilizzare e sollevare il peso. Ho proprio i primi centimetri per staccarlo da terra. Diciamo che per avere quella condizione in cui si riesce a creare quella forza, per me personalmente bisogna essere molto in forma. e magari lo ero anche dal punto di vista dello scarico, visto che la scorsa settimana non mi sono allenato. Comunque ho avuto delle pause, seppur dovute all'influenza, allo stato influenzale. però evidentemente c'è anche il fatto da considerare del degrado tecnico che si ha dell'alzata. Sebbene sia passato un tempo relativamente ristretto, insomma ho mancato due sessioni di stacco. Quindi sono passate circa due settimane, barra tre, che non faccio stacco, insomma. E questo è quello che capita. Tre settimane fa quindi sono riuscito a fare uno stacco piuttosto facile con 280 kg e un breve fermo in partenza. Invece oggi ho faticato un po' di più a sollevare 270 kg, 10 kg in meno, senza fermo in partenza né niente. E ho voluto salire un po' per vedere appunto la condizione, però c'è da riprendere un po' il lavoro, fare un passo indietro e riprendere da uno step più in basso. Questo è per quanto dovevo fare oggi nello stacco e quanto adesso vado avanti con il resto del mio allenamento. Sto ancora pensando allo stacco. Se fossi rimasto probabilmente nello stato di forma di qualche settimana fa quando ho sollevato 280 kg, probabilmente sarei riuscito a fare anche di più di 300 kg perché per come si sono mossi mi sentivo molti più kg in canna diciamo. E' che comunque aspettavo la settimana dopo, in cui però non sono riuscito ad allenarmi e si è perso tutto questo trend positivo di incrementi del carico di settimana in settimana. Quindi sarà un po' da riprendere. Purtroppo succede molte più volte di quante vorremmo succedesse. Così è la vita, così è che funzionano queste cose, questo percorso di crescita nella forza. Quindi andiamo avanti e ci rifaremmo la prossima volta. Quello che devo fare adesso invece è praticamente un esperimento possiamo dire, riguarda la muscolatura del quadricipite. Per chi non lo sapesse, fino all'anno scorso diciamo ho avuto un po' di problematica a livello del ginocchio, un'infiammazione tendinia che è andata avanti per diversi mesi, quasi un anno, che facevo fatica a fare squat e soprattutto tutti gli altri complementari che interessavano molto di più la flessione del ginocchio e quindi il quadricipite. E una delle cose che proprio non riuscivo a fare, che prima riuscivo a fare anche tranquillamente ma che utilizzavo più che altro per gioco, che per allenamento è il pistol squat. Quello proprio mi creava un sacco di dolore anche quando ero quasi del tutto guarito e avevo ripreso a fare squat. Normalmente il pistol squat non riuscivo a farlo. E ultimamente ho avuto ulteriori miglioramenti in termini di come sta il ginocchio e ho ripreso a farlo così per gioco. Però trovo che ancora alcuni esercizi, alcuni complementari per il quadricipite, come può essere un hack squat, una leg press, movimenti guidati, dopo un po' mi infiammano il ginocchio e movimenti che invece prima mi facevano male, come può essere un pistol squat, un reverse nordic in cui lavoriamo tanto sulla componente in allungamento del retto del femore e altri esercizi in cui non siamo vincolati a un macchinario funzionano meglio e mi fanno stare meglio. Quindi proviamo a fare del pistol squat, però provo un vero pistol, insomma uno squat, più che altro uno squat a una gamba su questo supporto in modo che non mi dia fastidio la gamba che devo tenere su e vediamo come va. Adesso mi riscaldo un po' perché devo anche lavorare sulla stabilizzazione e poi provo con una zavorra a tenermi più bilanciato e dovrebbe essere più facile. Sì. Sì. Devo dire che già da questa serie le sensazioni sono state buone e penso di non essere mai stato così stabile in questo esercizio. Adesso provo con una kettlebell da 12 kg che dovrebbe comunque piantarmi, tenermi più allineato e consentirmi, nonostante lo stimolo maggiore dato dal peso, comunque di rimanere più bilanciato. È un esercizio ottimale per i powerlifter? Sicuramente no. Lo stimolo, possiamo dire, sulla gamba, sul quadricipite e anche sul gluteo può essere tanto e la fatica può anche essere bassa. Quindi riusciamo ad avere un ottimo stimolo a bassa fatica, a basso impatto sul nostro sistema nervoso. Il problema è la richiesta di mobilità che alcune persone proprio non riescono a fare questo movimento e la richiesta di stabilizzazione. Quindi il limite, il carico massimo o il numero massimo di ripetizioni che possiamo effettuare è dettato tante volte proprio dalla quantità di stabilità che riusciamo a generare. Se non siamo abbastanza stabili non riusciamo ad arrivare a quel punto in cui riusciamo a dare uno stimolo sufficiente alla gamba. Quindi diventa difficile costruirci la forza o l'ipertrofia che ci serve magari per progredire nel powerlifting. Però magari ogni tanto così può essere una cosa che in alcuni casi ha il senso se dobbiamo anche lavorare attorno a un infortunio, il robustire delle articolazioni, esplorare nuovi range di movimento, secondo me è una cosa che ha senso provare in questa fase. Ecco la stabilità che inizia a vacillare. Anni fa ero riuscito ad arrivare a farlo a terra però quindi magari anche un po' più difficile perché dobbiamo tenere su bene la gamba che non lavora. A fare un pistol con la kettlebell da 56 kg che teoricamente dovrebbe essere un risultato degno di nota per chi si diletta, pratica di più e conosce meglio questo esercizio. A livello di sensazione è piuttosto buono per adesso, soprattutto anche a livello del ginocchio. A livello di pump, di isolamento del quadricipite non è percepibile più di tanto. Sicuramente è più facile percepirlo con un sissi squat, con una leg extension, con altre varianti di squat anche. però appunto secondo me sarebbe uno di quei movimenti che sarebbe più carino inserire in un giorno di riposo a bassissimo volume giusto per esercitare un po' la skill, magari assieme in una piccola sessione di mobilità e quant'altro. cosa che per diverso tempo magari qualche volta ho fatto è che tante volte ci si trova che poi effettivamente quegli allenamenti che facciamo veri e propri in palestra sono l'unica cosa che riusciamo a fare in termini di tempo durante la settimana e quindi dobbiamo concentrare tutto quanto in quelle sessioni. poi dopo questo richiamo di panca e questo giorno qui il giorno 4 faccio panca paralimpica in questo momento e sulle sei ripetizioni quindi un po' muscolare come alzata sarà un richiamo anche abbastanza leggero più che altro perché ho ancora un sacco di doms dall'allenamento di ieri alto volume sulla panca piana e sulla panca inclinata quindi non voglio ulteriormente distruggere il petto anche perché non riuscirà a creare più di tanta forza in questa alzata quest'oggi quindi uso un carico infimo, offensivo 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 adesso per finire un po' di back extension a carico basso, corpo libero insomma ripetizioni piuttosto alte per pompare un po' di sangue e la bassa schiena a mobilizzarla che in genere quello che faccio cerco di fare dopo una seduta pesante di stacco anche se quella di oggi alla fine è stata sì pesante magari ma il volume è stato talmente basso che almeno per il momento mi sento bene è abbastanza fresco a livello di schiena però poi non si sa mai i giorni dopo quindi conviene comunque fare un po di lavoro di pompaggio in questa maniera ok adesso vado avanti faccio un'altra serie di questo e dopo di che per oggi si conclude qui l'allenamento di oggi con quello che è stato lo stacco andata come è andata tutto il resto dei complementari io spero comunque che questo video vi sia piaciuto vi sia stato utile ne abbiate ricavato qualche informazione utile per i vostri allenamenti io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto a lasciare un mi piace se vi è piaciuto il video e noi ci vediamo nel prossimo video ciao 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 ciao